Non sono ancora chiare le cause dell'incidente verificatosi questa notte a Cervia, all'inizio di via Marti di Fantini, poco prima del luna. La Peugeot, su cui viaggiavano due persone, un uomo e una donna a quarantenni, è finita fuori strada. L'uomo, che era la guida, ha riportato gravi ferite, tanto che il personale del 118, intervenuto con due ambulanze e l'auto medicalizzata, ha ritenuto necessario il ricovero al bufalino di Cesena in codice 3. Anche la donna è stata ricoverata a Cesena, ma con un codice di media gravità. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Cervia, sia per procedere con i rilievi che per gestire la viabilità in via Marti di Fantini.